Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di geografia. Continuiamo il nostro giro d'Italia. Ti sei iscritto al canale? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti subito e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato. Oggi visiteremo il Piemonte, una regione subalpina. Il Piemonte è situato nel nord-ovest dell'Italia, come puoi osservare dall'immagine a sinistra. Confina con quattro regioni. A nord la Valle d'Aosta, a est la Lombardia e l'Emilia-Romagna, a sud la Liguria. E con due stati, la Francia a ovest e la Svizzera a nord. Il Piemonte ha una superficie di 25.387 km2 e una densità di 170 abitanti per km2. Il capoluogo è Torino. Osserviamo attentamente la suddivisione del territorio. Per il 44% il Piemonte è occupato dalla montagna, per il 30% dalla collina e per il 26% dalla pianura. Il Piemonte ha otto province. Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino città metropolitana, Verbano-Cusiossola e Vercelli. Piemonte significa regione piedi del monte. È infatti una regione circondata a ovest e a nord dalle Alpi e a sud dall'Appennino Ligure. Le Alpi piemontesi, suddivise in marittime, cozzie, graie, pennine e le pontine, presentano molte cime, oltre i 3.000 e 4.000 metri. Il territorio collinare è situato in particolare nelle tre province del Basso Piemonte, Cuneo, Asti e Alessandria. Le zone delle Langhe Roero e del Monferrato fanno parte dei siti UNESCO, Patrimonio dell'Umanità, per il loro paesaggio vitivinicolo, come possiamo osservare nelle immagini. Al centro delle Langhe vi è la città di Alba. Tra Torino e Ivea è situato il Canavese. Il Po è il fiume principale, nasce dal Monviso, attraversa Torino e raccoglie le acque di numerosi affluenti. Affluenti di destra sono Ticino, Chisone, Varaita, Maira, Tanaro, che bagna Alba, Asti e Alessandria, scrivia. Affluenti di sinistra, Dora Riparia, Orco, Dora Baltea, che proviene dalla Valle d'Aosta, Sesia, che bagna Vercelli, Ticino, che proviene dalla Svizzera e alimenta il Lago Maggiore. Il Lago Maggiore, o Verbano, è a confine con la Svizzera e la Lombardia. È formato dal fiume Ticino, è il secondo lago più esteso d'Italia e nel suo bacino spiccano le isole Borromee. Il Lago d'Orta, o Cusio, di origine glaciale, è famoso per l'isola di San Giulio. Ricordiamo poi il Lago di Viverone, il Lago di Mergozzo, i Laghi di Avigliana e numerosi altri laghi alpini, naturali e artificiali, possiamo trovarli nelle valli occidentali e in Valdossola. Il capoluogo del Piemonte è Torino, una città di origine romana che ha vissuto un importante sviluppo dopo il 1563, quando divenne capitale del Ducato dei Savoia. Nell'Ottocento, per qualche anno, fu anche la capitale del Regno d'Italia, una delle città più all'avanguardia d'Europa. Dopo un periodo di sviluppo industriale, negli ultimi decenni sta vivendo un'ampia trasformazione, diventando un centro tecnologico, culturale, turistico, gastronomico di livello internazionale. Se andiamo a visitare la città di Torino, possiamo gustare le bellezze del Palazzo Reale, della Mole Antonelliana e fare una visita alla Sacra Sindone. Altri capoluoghi importanti da ricordare a sinistra del Po, Biella, città della Lana, Vercelli, la Terra del Riso, Novara, che è la seconda città del Piemonte, e sul Lago Maggiore, Verbania. A destra del Po, ricordiamo Asti, con i suoi pregiati spumanti, Alessandria, sul Tanaro, e Cuneo, crocevia tra i monti e il mare. L'economia piemontese è sviluppata in ogni settore, ma per molti decenni il vero motore economico della regione è stata l'industria di medie e grandi dimensioni. L'industria automobilistica, la ex Fiat, è quella principale, insieme al tessile, all'agroalimentare, all'elettronica, la chimica e l'automazione. Nel Biellese è importantissima l'industria tessile e di cashmere. A Valenza Po è importante l'industria orafa. Nella pianura padana, grazie alla presenza di una fitta rete di canali, è sviluppata l'agricoltura, con le coltivazioni di riso e di cereali. Sulle colline è importante la presenza della vite, con la produzione di vini e spumanti di alta qualità, frutta, in particolare le nocciole, ortaggi e tartufi. Il tartufo bianco di Alba è un'eccellenza del Piemonte. L'allevamento, soprattutto bovino e suino, è anch'esso un settore importante. Sviluppato sia nelle zone alpine che nelle zone lacustri, è il turismo. Lo sviluppo del turismo, però, è dovuto anche alle città d'arte e nelle zone collinari all'agriturismo. Per quanto riguarda il settore dei servizi, ricordiamo l'attività legata alle banche e al commercio, settore importante, specie a Torino. Qual è il monumento simbolo del Piemonte? Lo sapete? È la Sacra di San Michele, una abazia che domina la Valle di Susa. Costruita tra il 983 e il 987, ha ospitato per secoli una comunità di monaci benedettini che ha accolto i pellegrini che percorrevano la Via Francigena che passa per il colle Moncenisio. È dedicata a San Michele Arcangelo, come Mont Saint Michel in Normandia, in Francia, e Monte Sant'Angelo in Puglia. Di recente è stata restaurata e merita sicuramente una visita. Conosciamo due importanti siti UNESCO del Piemonte. I Sette Sacri Monti, riconosciuti patrimonio dell'umanità per le opere d'arte che contengono e per la bellezza del luogo in cui si trovano, Se vuoi approfondire, fai una ricerca dei nomi dei Sacri Monti e realizza una presentazione digitale con le immagini. E Ivrea, città industriale del XX secolo, un insieme di edifici realizzati tra il 1930 e il 1960 per i dipendenti dell'industria Olivetti. Per approfondire, puoi ricercare notizie su Adriano Olivetti e sulla sua attività imprenditoriale e sociale. Racconta poi la sua storia in un audio di circa tre minuti. Per collegarci agli obiettivi dell'Agenda 2030 ho pensato di farvi riflettere sulla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, la TAV, che è inserita in un programma europeo di sviluppo di infrastrutture sostenibili e che richiama l'obiettivo numero 9 dell'Agenda 2030 Imprese, innovazione e infrastrutture. Il tunnel è in costruzione tra la Val di Susa e la Francia ed è al centro di un acceso dibattito sulla sua sostenibilità ambientale. Per approfondire, raccogli le motivazioni a favore e quelle contrarie alla realizzazione di quest'opera. Ora mettiti in azione Individuo all'intruso Dolci tipici del Piemonte Gianduiotti Bonet Cannoli Crumiri Quale non è tipico del Piemonte? Hai risposto? Il cannolo Opere d'arte Basilica di Superga Lanterna Venaria Reale Sacra di San Michele Lanterna Non si trova in Piemonte Le residenze dei Savoia Castello Sforzesco Castello di Mandria Palazzina di Caccia Castello di Stupinigi Castello di Racconigi Dove i Savoia non hanno mai risieduto? Certo Castello Sforzesco Tornando in classe Ti sarà possibile approfondire Lavorando a gruppi Le valli alpine del Piemonte Le valli alpine del Piemonte Prendi spunto da questa tabella che riporta alcune delle numerose valli piemontesi Completala raccogliendo le informazioni e individuando altre valli Potrai poi con i tuoi compagni realizzare un Padlet o una presentazione digitale che raccoglie e illustra le informazioni sulle valli che avrai riportato nella tua tabella Buon lavoro Arrivederci ragazzi Non dimenticate il like Vi aspetto alla prossima lezione A presto Vi aspetto alla prossima lezione